Da 2012 che vado avanti con questa storia qua, con visite da una parte, visite dall'altra, e l'ultima volta visita dal primario con priorità e non si sa. Lista d'attesa per l'intervento di Cataratta è una vera odissea quella del signor Lidiano che dopo l'ultima visita lo scorso ottobre attende l'operazione per il problema alla vista che gli sta causando molti problemi. A settembre mi scade la patente e a detta del dottore la patente non me la danno se non mi operano la Cataratta. La patente per me è essenziale perché mia moglie è malata, la devo portare su e giù dall'ospedale e non posso chiedere sempre ai figli di andare avanti e indietro, sicché a me la macchina serve. Un'operazione necessaria ed urgente, dice la moglie Carolina, se mio marito ha la patente noi riusciamo ad essere quasi autosufficienti. Quasi autosufficienti, cioè diciamo da 1 a 100, 80% autosufficienti e dopo il resto vengono i figli. Altrimenti finiamo per essere un peso, dice la signora, con ironia e l'intenzione di non arrendersi davanti alle difficoltà. Siamo un peso, noi saremo un peso per l'Inps, un peso per questo, un peso per quell'altro. L'unica cosa che potremmo fare è agevolare quelle delle bare, ma è l'ultima cosa che mai e poi mai, a 100 e oltre anni, tutti e due. E la coppia si appella al direttore dell'Ulst2. Vero che faccia un piacere, non un regalo di Natale, ma un regalo di Ferragosto. Vero che faccia un piacere, non un regalo di Natale, ma un regalo di Natale, ma un regalo di Natale, ma un regalo di Natale.